Ultimo giorno di scuola, 9 giugno 2010, anche per gli studenti del liceo Foscarini di Venezia. Un momento per tirare le somme e guardare i progetti futuri. C'è chi è nervoso per l'imminente maturità e chi invece si prepara a tre mesi di pura vacanza. Molte le iniziative e le attività extracurricolari che anche quest'anno il liceo ha portato avanti. Ottimi risultati dunque per la squadra di scacchi ma anche per il gruppo teatro, la professoressa Susanna Forte. E l'ultimo giorno come sempre è il momento della finale del torneo di calcio. Quest'anno vinto dalla Quinta D formata da Giovanni Amici, Lorenzo Barina, Giacomo De Fusco, Matteo Dei Rossi, Alvise Pedron e la terza C di Ettore Castro, Matteo Giulietti, Niccolò Morucchio, Michal Bertolini, Matteo Lamonaca, Matteo Pelliccioli, Pietro Girello e Gianluca Benedetti. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. E così a giochi fatti e somme tratte si chiude per ferie. Si ricomincia a settembre. Buone vacanze a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.